Allora, intanto buonasera a tutti e a tutti, grazie Paolo Favilli per aver accettato l'invito a tenere una lezione nella scuola interdisciplinare e cosmopolita. Dico subito che Favilli è uno storico che nasce all'Università di Firenze, è stato un allievo di Ernesto Ragionieri ed ha poi proseguito la sua carriera di storico contemporaneo, di professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Genova, dove ha concluso la sua carriera. Ricordo che ha iniziato i suoi studi di storico, appunto come storico economico, sociale, politico-sociale, direi. Il suo primo libro, che mi pare è il risultato, la rielaborazione del suo lavoro di tesi, è Capitalismo e classe operaia a Piombino, 1861-1918, Franco Angeli-1974. Editori riuniti. Ah sì? Editori riuniti, ancora meglio diciamo. Allora erano gli editori riuniti. Esatto, e più in consonanza con i tempi, editori riuniti. Allora, questo interesse per la storia economica e sociale, diciamo, con cui inizia la sua carriera di studioso, non è stata mai del tutto dismessa, almeno sino a un certo punto dei suoi studi. Ricordo a questo proposito le tasse degli italiani, fondazione di un sistema tributario, vizi di origine. Cluebbe 1997, spero di non sbagliare. Un libro importante, poco noto purtroppo, in un paese in cui la storia contemporanea si riduce essenzialmente alla storia politica, perché Favilli mostra, come dire, i limiti della progressività del sistema fiscale italiano già nell'Italia liberale. Ricordo sempre all'interno di questo ambito di studi, riformismo alla prova, la grande riforma, tra virgolette, tributaria nell'Italia liberale, Angeli 2008. Poi però Paolo ha virato sempre più decisamente verso la storia politica, la storia dell'idea e soprattutto la storia del marxismo, di cui, penso di poterlo dire, è in Italia uno degli esperti maggiori. Allora, ricordo di questo filone dominante nella sua produzione di studi, Storie del marxismo italiano, dalle origini alla grande guerra, Angeli 2008, Marxismo e storia, saggio sulla innovazione storiografica in Italia, 1945-70, Angeli 2008, Il difformismo e il suo rovescio, saggio di politica e storia, Angeli 2011, infine Il marxismo e le sue storie, dove ha coinvolto anche il sottoscritto, e da ultimo, a proposito del Capitale, Il lungo presente e i miei studenti, corso di storia contemporanea, un titolo assai modesto che in realtà cela un libro dottissimo e ricchissimo di informazione, che poi costituisce, immagino, la materia della lezione che terrà questa sera. Lo dico perché ho letto, diciamo, il dattilo scritto nel suo formarsi, diciamo. Allora, ci tengo a ricordare che molti dei suoi esaggi, articoli e libri sono tradotti in tedesco e in inglese, così credo che sia in corso la pubblicazione in inglese, se non già è uscita dell'ultimo libro che ho appena citato. È in corso, ma è in corso anche quella cinese. Anche quella cinese? Beh, bellissimo, bellissimo, meritata. Allora, dunque, siamo nel 2023 e parliamo ancora di Marx. È singolare, no? Perché Marx è un autore che periodicamente viene mandato in soffitta, ma poi riappare, riemerge, più vivo che mai. Direi che la riemersione di Marx è direttamente proporzionale alla crisi delle società contemporanee. Quando c'è crisi, quando l'egemonia del capitale molla la sua presa e appare nella sua fragilità e insostenibilità, Marx riemerge in tutta la sua freschezza e attualità. Io dico subito che non si può conoscere il mondo in cui viviamo se non si è passati in qualche modo attraverso la lettura di questo che è il più grande pensatore sociale dell'età contemporanea. Non si capisce il nostro tempo senza Marx. Allora, aggiungo che, contrariamente a quanto si pensa e si vuol far credere, Marx non è il pensatore dottrinario che tanta tradizione ha tramandato. Gli studi recenti, e tra gli studi recenti ci sono anche quelli di Paolo, mostrano un Marx assolutamente insaziabile di sapere, perennemente insoddisfatto dei suoi risultati, tant'è che noi del capitale abbiamo, mentre lui era in vita, solo il primo libro, perché non tardava sempre a mandare al povero Frederick Engels il resto del lavoro, perché era incontentabile dei suoi risultati. Un Marx straordinariamente vorace e aperto a tutte le forme di analisi sociale del suo tempo, e anche del passato, e anche come racconterà, immagino Paolo, della letteratura del passato. E poi aggiungo, questo è un aspetto che emerge sempre di più negli ultimi anni, un finissimo politico. Marx era un grandissimo politico che aveva un senso straordinario della realtà. Ma io qui mi fermo e do la parola a chi su questo ne sa, sicuramente più di me. Paolo, a te, grazie. Vabbè, io ti ringrazio, ma sono un po' imbarazzato, devo dirti la verità. Prima perché il tema che mi è stato dato sarebbe oggetto di ben altri tempi e di ben altri approcci. E quindi io mi limiterò a muovermici un po' dentro, ecco, e anche in una maniera, se vogliamo, molto soggettiva, insomma. Ma ecco, penso che ne uscirà un sistema di relazioni coerenti, ma puntando soprattutto sugli aspetti che penso servono alla nostra riflessione di oggi. Perché sulle ultime cose che ha detto Piero sono completamente d'accordo. Un altro avvertimento è il fatto che io non sono un marxologo, sono uno studioso di storia e quindi il mio rapporto con Marx è ovviamente determinato dallo studio dei testi, perché senza studio dei testi ogni discorso, come diceva giustamente Nicolao, Merker è pura esercizio di fiato, insomma. Però la mia è un tentativo di traducibilità nel processo storico. Quindi è un approccio totalmente diverso da quello del marxologo. Le sollecitazioni del presente vengono immediatamente e penso che per comprendere certi aspetti che a uno studioso, a un critico, risultano paradossali, risultano paradossali, anche un libro che parrebbe totalmente strano a questa dimensione da cui sto per cominciare, possano invece servire. Non so se a qualcuno di voi è successo, in questi ultimi giorni, di incontrarsi con un libro appena uscito, che ha un titolo che promette tantissimo, Sinistra, un manifesto. Non so se qualcuno di voi l'abbia visto. Ora, voi capite, è un riferimento terminologico di smisurata ambizione intellettuale quando uno sinistra un manifesto, quello che viene a mente, a noi ci viene a mente tutto il manifesto. E allora mi è venuto a me a mente uno studio di un grande storico, John Eric Hobsbawm, che ha fatto sui manifesti, appunto, sui manifesti del ventunesimo secolo, sui manifesti che cercano di cogliere il trapasso di un'epoca, addirittura il trapasso di un'epoca. Questo è un saggio di Hobsbawm del 2008. E a proposito di questi manifesti, Hobsbawm dice e gli sostiene che nessuno dei manifesti in cui si è imbattuto, virgolette, afferma qualcosa che valga la pena di essere ripetuta, a meno di non essere un fan delle banalità scritte male. Ora, in questo caso non è scritta male, devo essere chiaro. sulle banalità, non mi pare si possa essere del tutto d'accordo con quello che dice Hobsbawm. Dice ancora, un materiale con cui si potrebbero riempire grosse discariche. E questo è un problema, perché in effetti... Dici il nome dell'altro autore, Paolo. Ognuno di voi penso lo sappia perfettamente. È uno della nostra età, Piero. È uno della nostra età che aveva... Aldo Schiavone. Non è un insulto. No, non è un insulto a vero della nostra età. No, d'accordo. Ora, a parte questo, alcune parti, alcune cose bisogna le legga, perché sennò non ci rendiamo conto. Perché questo è un problema, ecco, non secondario. Come è possibile, cioè, che cose di questo genere possano essere in qualche modo discusse, anche criticamente, come avviene sulla dimensione giornalistica. Dice la tesi fondamentale di questo signore che bisogna estirpare dalla cultura e dalla politica della sinistra il marxismo e l'idea di socialismo. D'accordo. Questo in una prospettiva in cui l'emancipazione, usa proprio il termine, anzi l'autoemancipazione, dei subalterni, deriverà dall'aumento della potenza tecnica che accresce la nostra libertà e la nostra capacità di autodeterminarci. E qual è il soggetto che si deve autoemancipare? Non penseremo ai subalterni, io ho usato il termine subalterni, ma il signore in presenza non lo usa. Il tema che viene in questione è quello dell'emancipazione dell'umano nella sua totalità, l'autoriconoscimento della specie come l'autentico soggetto di tutta la nostra vicenda. E voi mettete a fare analisi sociale, il problema è l'autoemancipazione della specie, che non ha, a un certo momento, dietro la capacità autoemancipatrice della tecnica nessuna dimensione di conflittualità sociale. Infatti, l'altra tesi di fondo è che la lotta di classe non esiste più. ma ancora una parte e poi non ne parlo più. Dice questo signore che non c'è più lo sfruttamento, perlomeno non c'è più lo sfruttamento classico, perché quello che una volta si chiamava l'estrazione del plusvalore attraverso il pluslavoro, il lavoro, cioè erogato ma non retribuito, è riservato solo alle forme di lavoro a più bassa densità tecnologica, dove continua a prevalere l'aspetto puramente quantitativo dell'attività umana. Mentre quanto più il lavoro incorpora competenze complesse, tanto più il suo rapporto con il capitale si fa equilibrato. E qui quindi il conflitto non ha più luogo. E la differenza tra i loro redditi tende a diminuire. Tende a diminuire. Perché il valore delle merci dipende ormai dalla tecnologia in essa incorporate e non più dalla quantità di lavori. Ecco, ora, questo manifesto si rivolge alla sinistra italiana. per sinistra italiana Schiavone intende quella maggioritaria che è rappresentata da tempo in Parlamento, non frange che sinceramente non hanno nessun peso politico, insomma, quella che ha peso politico. E qui c'è il problema della storia. questa sinistra che lui si rivolge per rifondarla su queste linee si è già rifondata su queste linee da trent'anni. Questa è la storia. Basta vederla. E quindi i risultati che noi abbiamo sotto gli occhi non sono quelli che ipotizza l'autore di questo libro. Ma si sa la verifica empirica quando si trattano le grandi idee nell'Empire è cosa da eruditi, non è cosa da storici o soprattutto da filosofi. Ecco, soprattutto da filosofi. Ora, il nostro problema è questo. Come mai cose di questo genere possono essere discusse? Possono essere discusse? Io ho visto alcune recensioni, alcune anche critiche, ma comunque che si prendono seriamente e non come sintomo. Ecco, questo è un sintomo, un segnale evidentemente di una situazione più generale del nostro rapporto oggi tra cultura e politica, qualcosa del genere. E qualcosa da Marx su questo aspetto non si potrebbe avere, anche dallo stesso capitale, anche dallo stesso capitale, ragionando ad esempio su quella affermazione straconosciuta che le idee dominanti sono quelle delle classi dominanti. Ecco, dicendo il capitale si comprendono anche tutte le logiche del passaggio che giustificano un'affermazione così generale che può apparire detta in questi termini in qualche modo assiomatica, ma che leggendo Marx non lo è. Ma questo è un problema importante proprio per la nostra analisi dell'oggi e anche qui ritorno a Marx e in particolare del capitale perché a parte le cose che vengono dette in questa maniera ritorno a banalità ripetitiva perché queste cose non sono nemmeno nuove il pensiero conservatore le dice da un secolo e mezzo come minimo e negli ultimi 30-40 anni le abbiamo sentite da tutte le parti in tutte le sedi pubblicistiche un po' meno in quelle scientifiche ma anche in quelle scientifiche gli echi se ne sono avuti il problema è giustificato con il fatto che noi viviamo ormai in un'altra epoca storica ecco chiunque ha un qualche dimestichezza con l'analisi storica resta sempre molto stupito di fronte a cambiamenti che si pretende derivino dal mutamento di un'epoca storica per certi aspetti poi tra l'altro le discussioni sulle grandi periodizzazioni non sappiamo a che cosa quale letteratura hanno prodotto e si svolgono sempre riguardo a periodizzazioni di lungo periodo processi che si svolgono in lungo periodo mentre in questo caso si svolgerebbe in breve periodo in sostanza i sostenitori del mutamento di un'epoca storica dicono che questa epoca storica si è chiusa dopo la caduta del burro di Berlino con l'implosione dell'urro è mutata epoca storica ora tutta appunto la letteratura di cui si parlava sui meccanismi attraverso i quali mutano le epoche storiche andrebbe quella buttata forse o buttata se tutte le cose fossero cose semplici se eventi anche estremamente importanti potessero determinare il mutamento di un'epoca storica insomma sarebbe e non è così lo sappiamo perfettamente è uno degli aspetti fondamentali del proprio dell'analisi marziana che può derivare dal capitale nel suo rapporto proprio con l'analisi storica è proprio quella relativa alle diverse temporalità con cui noi dobbiamo fare conti nell'analizzare qualsiasi tipo di periodizzazione anche di breve periodo ora la fine di un'epoca storica significherebbe che nella sostanza noi viviamo in una società post-capitalista come minima comunque non capitalistica che cioè gli elementi di fondo che hanno contraddistinto un sistema di produzione non ci sono più sono scomparsi e anche qui penso qualsiasi analisi empirica ci dice esattamente il contrario certo che mutamenti ci sono e ci sono profondi nelle relazioni internazionali in tutto qualcosa vedremo nel corso stesso della lezione ma questo non significa un mutamento di un'epoca storica il capitalismo muta sempre se stesso è un continuo mutamento e le forme di accumulazione del capitale sono molteplici e diversi e comportano la diversità in tutti i settori che compongono il sistema delle relazioni sociali perché bisogna avere ben chiaro una cosa su cui tornerò tra un attimo che quello che Marx studia nel capitale non è l'economia capitalistica e basta è la società capitalistica che cosa diversa è molto più importante e più complessa e quindi il mutamento delle forme di accumulazione comporta indubbiamente forme di mutamento complessivo in tutti i sistemi della relazione sociale persino nelle mentalità che pure la mentalità è una struttura quindi in una logica di lungo periodo e non di breve periodo ma proprio questo ci fa perlomeno a me io su questo sono in disaccordo con anche alcuni miei colleghi amici mi fa negare il fatto che noi oggi possiamo parlare di un'età storica che è totalmente post capitalistica o addirittura non più capitalistica e no di una nuova forma di accumulazione del capitalismo e questo proprio basandomi in gran parte sull'analisi che deriva dal capitale ecco ho cominciato se volete da lontano insomma però mi sembra che riflettere sull'oggi da questo punto di vista soprattutto in una conversazione come la nostra che non è accademica ma insomma è molto esperto un notevole musicista scusa non sentivo non so ho sentito qualcosa ma vai Paolo c'è qualche microfono aperto ogni tanto c'è qualche microfono aperto ora Piero nella sua presentazione ha parlato del del capitale facendo riferimento al modo della sua costruzione e a tempi della sua costruzione e beh questa non è una curiosità ma è un elemento importantissimo per vedere qual è metodo e modo di pensare di Mars in relazione proprio al movimento del capitale e quindi al mutamento della società ecco noi ci troviamo di fronte a un'opera che non è finita che non è finita non sappiamo che Marx comincia a lavorare sul capitale su quello che chiamerei il capitale insomma grosso modo alla metà degli anni 50 e nell'83 al momento della sua morte sta ancora pensando alla revisione del primo libro uscito nel 67 e appena uscito oggetto di ipotesi di revisione da parte di Marx cioè un lavoro che occupa tutta la vita scientifica e politica di Marx nella sostanza no ecco ecco però non giunge ad una conclusione editoriale nemmeno il primo volume nemmeno il primo volume che è l'unico edito in vita di Marx rimane rimane escluso da piani di revisione del testo perché tutto questo il senso ha c'è una in una lettera di Marx ad Engels quando sta modificando il sta cercando di finire il primo libro dei passi che mi sembrano proprio interessanti dice subito di contare appena uscito su una seconda edizione del libro per apportare cambiamenti e si sofferma tra la tanta fatica che gli è costata trovare la connessione tra le cose stesse tra i fenomeni economici la costruzione della teoria insomma poi continua dopo che questo era fatto piombava un libro azzurro dopo l'altro nel mezzo dell'ultima elaborazione e io ero incantato nel vedere continuamente i miei risultati teorici completamente confermati dai fatti ma e se ci fosse stata contraddizione con i fatti evidentemente Marx doveva rintervenire sull'apparato teorico e questo nodo sarà quello che accompagnerà il lavoro immenso di riflessione di Marx di tutta la vita di Marx sulla società capitalistica e che comporterà il non finito di quest'opera di quest'opera a mezza comporterà il non finito perché quest'opera non può essere finita in questa logica questo non significa che il nocciolo profondo venga sostanzialmente cambiato ma la necessità di seguire processi lo vedremo meglio tra poco se ne avremo il tempo fino a che ho tempo fino alle sette Piero non sento si poi ci sarà la discussione va bene comporta voi pensate lo stesso nelle edizioni che noi abbiamo oggi noi abbiamo i classici tre volumi primo secondo e terzo abbiamo detto che solo il primo è quello che Marx ha visto edito nella sua vita pur con tutti gli aspetti che ho detto il secondo e il terzo vengono pubblicati da Engels dopo la morte di Marx oggi noi abbiamo i manoscritti e nella nuova mega si vede benissimo quanto Engels interviene su quei testi interviene molto pesantemente il secondo libro su circa 800 del terzo libro su circa 800 pagine 300 sono di fatto di Engels l'unico che poteva evidentemente fare un'operazione del genere ma il quarto libro che noi conosciamo con i tre volumi delle teorie del svalore non si sente nulla fate spegnere i microfoni Serafino per favore il microfono spegne il microfono dicevo quello che noi oggi chiamiamo quarto libro del capitale edito da Kaus che le teorie del plus valore in realtà è stato scritto mentre si elaborava il primo e anche questa è una cosa estremamente interessante perché è una storia delle teorie economiche è fare conti cioè elemento fondamentale della critica dell'economia politica è fare conti in itinere con la dimensione storico-teorica mentre si scrive il libro di teoria che intende essere economica nel senso che dirò tra poco cosa intende Marx per economico ecco questo modo di lavorare in una simbiosi continua tra storia riflessione teorica teoria e ricerca empirica questo è il modo marziano di lavoro che ha scritto il libro da cui siamo partiti evidentemente è molto lontano da questo metodo di lavoro e una cosa di questo genere che accompagna tutta la vita scientifica di Marx porta quasi inevitabilmente ad un lavoro non finito io l'ho paragonato un po' il non finito di Marx non finito della Pietà Rondanini di Michelangelo in questo senso ovviamente meno male non c'è Montanari se no mi avrebbe bacchettato forte in questo senso per Michelangelo il non finito è proprio una tecnica voluta in molte delle sue opere quindi non c'è niente da dire però quando affrontiamo la Pietà Rondanini ci troviamo di fronte a un'opera a cui lui lavora per 12 anni a cui lavora per 12 anni però non finisce anche pochi mesi prima della morte stava lavorando alla Pietà Rondanini e qui sì c'è un qualcosa che ha insieme di Prometeico e di Sisifo Sisifo e Prometeo messi assieme di fronte a questo sforzo pauroso davvero Prometeico di tirare fuori dalla pietra qualcosa che corrisponda a una dimensione non facilmente dicibile perché vuole abbracciare un sistema troppo ampio di relazioni questo è Marx ecco perché Marx il problema di abbracciare questo sistema di relazioni non cambia mai fin dall'inizio ma ne cambia continuamente il perimetro si amplia vedremo se avremo tempo proprio negli ultimi anni questo suo ampliarsi dall'Europa all'extra Europa sia a quella avanzata agli Stati Uniti sia a quella non avanzata India Cina quella coloniale ecco qualcosa del genere la Russia che è un elemento fondamentale quindi un ampliamento continuo della geometria ecco in cui deve svolgersi questo rapporto e questo ampliamento continuo non ne permette la fine una dimensione una dimensione che è di per sé diciamo non esaustiva insomma è uno sforzo prometeo per abbracciare un insieme di relazioni tendenzialmente totale insieme necessità di ritorni ripartenza modifica degli strumenti analitici per la comprensione della realtà del capitale in perpetuo movimento ecco l'altra domanda che dobbiamo porci è ma che tipo di sapere è allora quello del capitale un studioso di filosofia polacco molto interessante tra l'altro Kolakowski definisce Marx e Marx del capitale un filosofo tedesco e non c'è dubbio che Kolakowski abbia anche ragione ma è una definizione totalmente restrittiva ecco il modo con cui usa la filosofia su cui tra poco ritorneremo è soltanto un aspetto della dimensione lui ha sempre pensato a quest'opera Marx quando è persa come un'opera economica ma in che senso opera economica ho cercato attraverso l'invenzione di una di un giudizio composto da una commissione di professori per una cattedra di economia politica all'università di Genova ho pensato a quella perché io ero lì all'università di Genova dove Marx si presenta per avere una cattedra di economia politica e bene questi professori a me sembra che comprendono bene la logica del capitale e per questo non gli diano la cattedra ovviamente se permettete vi leggo questa relazione della commissione chi di voi alcuni di voi saranno stati in commissioni concursuali ci troveranno tante cose familiari quindi qui si tratta di una procedura di valutazione comparativa per la copertura di numero un posto di professore ordinario presso l'università degli studi di Genova dipartimento di economia settore scientifico disciplinare sexp01 economia politica giudizi collegiali sulle pubblicazioni scientifiche e su titoli presentati da ciascun candidato candidato Carmars Carmars ha ottenuto il dottorato all'università di Iena con una tesi in filosofia la differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro un'importante parte della sua produzione scientifica caratterizzata da competenza teorica ricchezza interpretativa e rigore metodologico ha continuato a rimanere all'interno della dimensione filosofica per la procedura di valutazione comparativa benoggetto e gli presenta come titolo principale un'opera in quattro libri sette tomi 4579 pagine il capitale critica dell'economia politica si tratta certamente di un'opera dotissima e originale ma di difficile anzi impossibile collocazione disciplinare lo stesso sottotitolo di questo immenso lavoro critica dell'economia politica rimanda ad ambiguità teoriche non componibili in orte il dottor Marx sembra interpretare la dizione economia politica come è definita la cattedra a cui concorre alla maniera dei classici Smith e Riccardo con evidenti ascendenze aristoteliche sembrano rendersi conto che il termine politica nell'ampia eccezione ed insieme di relazioni sociali immediate dell'economia è solo un residuo della tradizione nell'insegnamento di economia politica della nostra università ci si occupa di rapporti tra cose economiche economica economics e non di rapporti sociali l'opera del dottor Marx invece ricostruisce un insieme di relazioni non limitato alle cose quando egli parla di cose ha sempre in mente e lo argomenta tramite concettualità analitica non strettamente economica quello che c'è dietro le cose per di più elemento caratterizzante dell'opera è la considerazione delle cose concetti e o fatti economici nell'ambito del processo storico di mutamento e o sviluppo e ciò comporta l'esternità rispetto ad una razza del tutta interna ad economics la spiegazione del mutamento storico tanto delle categorie concettuali che delle realtà economiche deve per forza ricorrere a momenti esogenei rispetto alla società tarazio e dunque l'opera si serve di strumenti concettuali molteplici residui dell'affermazione filosofica dell'autore continua interferenza di processi storici massiccia presenza di temi sociologici e persino presenza di un'evidente tensione etica per l'insieme dei suddetti motivi la commissione giudicatrice non ritiene che i titoli presentati dal dottor Karl Marx possano essere presi in considerazione nella presente procedura di valutazione comparativa per un posto di professore ordinario di economia politica nel settore scientifico disciplinare sex p marra zero io penso che molti di voi che hanno fatto parte di commissione si ritrovano nella bravura con cui vengono costruiti questi giudizi finali eppure questa commissione a mio parere ha preso bene per negarlo questa come è che cosa qual è il sapere economico del capitale questo sapere intrecciato tra la dimensione filosofica guardate bene la dimensione economica e la dimensione filosofica soprattutto a carattere epistemologico cioè sempre la propedeutica dei concetti quella che interessa Marx un altro aspetto che se oggi si utilizzasse di più il nostro dibattito politico culturale avrebbe un'altra dimensione insomma la propedeutica dei concetti e poi la sociologia ma il mutamento anche qui e poi la storia va bene e aspetti dell'antropologia cose di questo genere un'economista che pure aveva aspetti forti della dimensione neoclassica anche se applicata con una notevolissima intelligenza Schumpeter ha parlato di fusione chimica tra questi diversi aspetti è una metafora che trovo possiamo usare sia pure con una qualche prudenza ma ecco niente in realtà ci farebbe comodo quando noi nel nostro presente ci imbattiamo nella necessità di interpretare attraverso l'economico i mutamenti della società fare riferimento a questo modo che Schumpeter ha chiamato chimico di analizzare il mutamento stesso nel suo processo storico io sarei molto indietro mi riferirò soltanto cercherò di tagliare parecchio cercherò di tagliare parecchio il tra l'altro questo il questo tipo di sapere costruito attraverso l'intreccio fittissimo di saperi diversi è tutt'altro che contrario alla specializzazione di questi singoli saperi a nuovi strumenti analitici strumenti che vengono considerati appunto nella loro logica di strumentazione non di per sé elementi che ci conducono alla verità sullo stato di fatto in particolare è interessante che Marx si sia occupata ad esempio di uno degli elementi più astratti con cui si costruisce una teoria economica cioè la matematica ovviamente riferita a un non matematico ma che si è messa a studiarla molto seriamente e soprattutto alla matematica dei suoi tempi ma è uno strumento che ha utilizzato sempre come appunto un metale come strumento con una verità e qui voglio fare riferimento a una citazione da questo punto di vista di un matematico di un grande matematico italiano Bruno De Finetti che appunto interviene con consapevolezza di questo strumento all'interno del dibattito tra matematica ed economia dice matematicamente ogni risultato supposto esatto è un risultato esatto ma quel che veramente conta è l'apporto all'economia e tutto dipende non dal fatto che il risultato sia vero ma che risponda a qualcosa di importante cioè ad una dimensione conoscitiva più profonda ad una dimensione conoscitiva di profonda ora noi sappiamo bene come all'interno oggi delle discipline economiche che tra l'altro impropriamente continuiamo a clamare neoclassiche ma che sono contro la teoria classica degli Smith e di Riccardo che diciamo neoclassico invece lo strumento matematico è l'elemento di spiegazione è l'elemento di verità dell'analisi del momento che si è preso in considerazione quindi diciamo dal punto di vista conoscitiva c'è un fortissimo ristringimento del nostro orizzonte analitico un pauroso ristringimento di questo orizzonte analitico e noi oggi abbiamo bisogno invece di un ampliamento del nostro orizzonte analitico quindi anche in questo caso l'attualità del capitale è del tutto evidente perlomeno per coloro che pensano che la realtà nella quale vivano debba essere cambiata in una particolare direzione e la dimensione della critica dell'economia politica è appunto elemento fondamentale il sottotitolo del capitale è elemento fondamentale di questo modo di porsi di fronte all'analisi della realtà della società nel proprio complesso ripeto non dell'economia capitalistica e basta ma molto brevemente ora e concludo perlomeno questa parte scusa qualche problema per favore chiudete i microfoni e concludo questa parte ho detto che che sono documenti di viaggio ignazio chiudi il telefono per favore ho detto che il perimetro attraverso cui si svolge l'analisi marxiana nei termini che abbiamo detto poco fa si amplia in continuazione fino a arrivare a luoghi nei quali il processo di formazione della modernità capitalistica industriale non segue il modello inglese non segue il modello inglese questo è molto importante e anche qui c'è un atteggiamento interessante che noi possiamo vedere in particolare nei confronti della Russia ecco il suo rapporto con la Russia con la Russia e il capitale e con il capitale e la Russia insomma con il capitale e la Russia con le possibilità di spiegare la Russia non con le categorie analitiche con cui si è spiegata ovviamente la formazione del capitalismo industriale in occidente anche su questo una precisazione dieci minuti me le dai ancora o devo smettere subito cinque vabbè allora faccio più rapido non si sente ecco soltanto questo va bene Paolo cinque minuti anche sulla Russia si dice sempre che è stato l'ultimo Marx ad occuparsene beh non è così Marx si occupa la Russia fino addirittura dagli anni cinquanta a fine degli anni cinquanta ovviamente è più interessato dopo il 61 quando ci sono decreti di abolizione della servitù della gleba ma è sollecitato da suoi interlocutori russi non dobbiamo dimenticare che la prima traduzione in lingua straniera del capitale è del 72 in Russia è la prima è la traduzione di Danielson e con i suoi interlocutori russi Danielson e altri lui ha un contatto continuo e riceve materiale enorme di questo materiale enorme cui tiene ampiamente conto nel nel suo sguardo sullo sviluppo del capitalismo in Russia sullo sviluppo del capitalismo in Russia dice una massa di materiale che ho non solo sulla Russia ma anche sugli Stati Uniti mi fornisce un piacevole pretesto per continuare i miei studi invece di concluderli e darle alle stampe e si capisce ancora la dimensione inesaustiva della logica del capitale occorre osservare il corso attuale fino a quando le cose siano maturate soltanto allora è possibile consumarle produttivamente cioè dal punto di vista delle teorie quindi come vedete una teoria profondamente innervata di storia e una storia profondamente innervata di teoria sempre questo lui prenderà dall'esame della Russia della Cina e dell'India su cui bisognerebbe stare tantissimo ma voglio leggervi soltanto tre righe che mi sembrano profetiche che mi sembrano profetiche se le trovo naturalmente è una lettera è un articolo del 59 un articolo del 59 dal 1842 le insurrezioni dei servi contro i proprietari terrieri e i loro amministratori sono diventate endemiche qualcosa come 60 nobili secondo le statistiche ufficiali del ministero degli interni vengono assassinati dai contadini ogni anno se insorgono avremo il 1793 della Russia il regno del terrore di questi servi semi-asiatici sarà qualcosa che non avrà pari nella storia ora le cose non saranno esattamente questo ma è il nodo della questione contadina e la peculiarità della Russia sulla questione contadina nella possibilità di un mutamento strutturale che possa portare verso forme di socialismo che sarà al centro poi della discussione con Vera Zasulic sempre come sottofondo questa comprensione di una realtà che bolle sotto la cenere quando scoppierà Luna Charsky dirà siamo seduti sull'orlo di un vulcano sono solo spunti mi dispiace ma su una materia di questo genere non c'è stato volesso spero che siano grazie Paolo sono spunti fantastici una lezione ricchissima come ci aspettavamo da te bene io vedo che c'è già una mano alzata credo che sia sia quella di Gigi Babalà se non sbaglio sei tu Gigi sì sì buonasera non ho sentito tutta la relazione ho sentito qualche riferimento al libro di Schiavone che io ho letto ho un po' sfogliato volevo soltanto se mi date 4-5 minuti anche di meno dire che dalla relazione noi dobbiamo fare uno sforzo di pensare il tema degli individui non sempre se non altrimenti un economicismo raffinato ritorna e quel tentativo che Habermas fece negli anni 80 di ricostruire il materialismo storico a partire dal tema dell'identità e di un io autonomo e quindi attraversando la psicanalisi P&G la psicologia questi contributi si perdono e noi non avremmo mai individui ricchi capaci di reagire agli eventi del mondo e possiamo fare tutte le analisi di questa terra e restiamo sempre in una condizione drammatica io ve leggo un passo del Grundriss di Mars breve dove dice dove lui riferendosi allo sviluppo al valore di scambio dice quest'ultimo produce per la prima volta insieme all'universalità l'estraneazione dell'individuo da sé e dagli altri ma anche l'universalità e la versatilità delle sue relazioni e capacità negli stadi precedenti dello sviluppo il singolo individuo appare più compiuto individuo appunto perché ancora non ha elaborato la pienezza delle sue relazioni e non se ne è ancora posta di fronte come insieme di potenze e di rapporti sociali da lui indipendenti dall'individuo quindi il capitalismo accentua oltre alla nostra condizione già drammatica in natura che è una collocazione drammatica la nostra in natura anche una collocazione drammatica nella storia recente perché i rapporti sociali diventano potenze indipendenti dall'individuo però aggiunge Marx è ridicolo rimpiangere la pienezza originaria proprio come è ridicolo pensare però di dover permanere in questa situazione di totale svuotamento dell'individuo la concessione borghese non è mai riuscita ad andare oltre la contrapposizione con quella concessione romantica della pienezza originaria e quindi essa l'accompagnerà come contrapposizione legittima fino alla sua fine beata ora per rimediare a questa che è diventata anche una nostra drammatica collocazione nella storia noi dobbiamo riflettere sui temi dell'io autonomo quando Habermas io prendo invece di perdere tempo su Schiavone dove anche lì gli individui non ci sono c'è la tecnica e c'è il capitale gli individui scompagono scompare la vita quando Habermas in questo sforzo qui diceva scriveva ho citato vabbè ricordare che la teoria ogni teoria critica della società deve tenere fermo il concetto dell'io autonomo è ricco recuperando un po' la versatilità anche se rimangono potenze strane all'individuo anche dove avanza la cupa prognus che questo io stia perdendo la sua base e qui poi Habermas è un lavoro degli anni 80 insomma non è da aggiornare in molti punti però questa questione dell'individuo che io ancora non vedo da noi ben messa in evidenza perché io vedo l'apatia i conflitti la gigantomachia interna ad ogni individuo che non sfocia mai in azione storica ragazzi che non trovano la possibilità di esprimere la propria interiorità in rapporti sociali è come se il mondo fosse una macchina minacciosa che minaccia sempre paure incombenze sfruttamenti di lavoro la cosa bellissima del libro di schiavone è un capolavoro detto io non so perché a una certa età si arriva a questi livelli lui parla della bellezza di sfruttare i talenti parla dello sfruttamento dei talenti cioè lui lui nega la teoria dello sfruttamento per poi parlare di sfruttamento dei talenti individuali non incolpiamo l'età perché schiavone è la mia età no no ma l'età l'età non anagrafico l'età l'età di come va a finire io conosco trentenne di un bambito non è una questione di età anagrafica è una questione di anche io una certa età diciamo no il punto è riprendiamo anche questi temi incrociamo i confini i temi storici i temi sistemici i temi analitici con questo tema della reazione dell'individuo agli eventi del mondo perché altrimenti prima ci sono gli individui anche Mars lo scrive poi le classi l'attenzione all'individuo in Mars sarà sempre presente e non solo nel Mars giovane non solo nei manoscritti economico-filosofici in tutto Mars permane Mars rimane un filosofo ecco un grande filosofo anche sulla condizione individuale nel mondo spesso volevo volevo un po' che riprendessimo anche questa parte insomma grazie Gigi c'è Alessandro Scassellati che vuole intervenire prego un paio di cose uno è che io sono stato a una presentazione di Schiavone qualche settimana fa perché ho accompagnato il mio amico del mio caro amico del PD e c'era Walter Vettroni come accompagnatore e a proposito del discorso che veniva appena fatto Vettroni ha letto una sua relazione il cui punto fondamentale era che essere di sinistra oggi vuol dire essere a favore della libertà individuale ecco lo faceva diventare il perno che mi faceva un po' sorridere io penso questo discorso della libertà individuale io personalmente penso sempre al Marx del 18 di Brumaio che dice che gli uomini fanno la storia ma non sono totalmente liberi si portano dietro fatti e tradizioni quindi diciamo c'è un tema di struttura con cui bisogna comunque fare i conti io volevo chiedere a Favilli ecco una valutazione anche da da storico ecco da questo punto di vista perché da una parte c'è il capitalismo di Marx che è fatto poi sostanzialmente diciamo sintetizzando di quattro elementi la proprietà privata dei mezzi di produzione e il mercato del lavoro libero quindi salariato e il valore eh autovalorizzante quindi l'accumulazione di capitale e poi c'è il ruolo dei mercati quindi diciamo c'è questa parte che è più diciamo la black box dell'economia come dire dove ovviamente ci sono poi tutti gli elementi anche di relazioni sociali e e qui nasce il tema appunto dell'estrazione del plus valore e quindi dello sfruttamento ecco però da storico vorrei che facessimo un po' un ragionamento rispetto al tema dell'espropriazione che eh si accompagna al al tema dello sfruttamento che se guardiamo la storia degli ultimi cinque secoli diciamo dal capitalismo mercantile fino a oggi ecco questa dimensione di espropriazione non è proprio estranea anzi diciamo è andata a pari passo al tema dello sfruttamento se pensiamo soprattutto dal 1492 con le scoperte e il rapporto che noi abbiamo con il sud lo dico anche in relazione appunto a questo tema di eh di un sistema diciamo della formazione sociale del capitalismo ecco dove qui per esempio se andiamo a guardare io ho letto recentemente questo libro interessante molto interessante molto sistematizzante di Nancy Fraser capitalismo cannibale ecco e qui lei dice giustamente c'è la parte di Marx quella che dicevo prima però poi appunto se ragioniamo su il capitalismo come formazione sociale come società ci sono almeno altri quattro campi su cui bisognerebbe portare l'attenzione uno è il tema della razza e quindi poi da qui uno può prendersi Stedrick Robinson il capitalismo razziale tutte queste altre cose che spiega che è legato al tema dell'espropriazione poi c'è la natura che ovviamente noi abbiamo saccheggiato e saccheggiamo c'è il tema come dire della riproduzione sociale e poi c'è il tema del politico queste quattro altre dimensioni ora la domanda era sull'espropriazione ecco voglio dire prego grazie se vuoi rispondere subito dunque innanzitutto volevo dire che sono d'accordo con quello che ha detto Vavala e sul modo con cui ha citato Grundris non c'è dubbio bisogna però tener conto ecco che la logica in cui Marx vede l'emancipazione individuale su questo punto tra l'altro c'è una vasta letteratura ormai è diventato un luogo comune che Marx la libertà individuale la realizzazione dell'individuo in quanto tale è uno dei punti qualificanti di quello che per Marx è il socialismo ma per fare questo ovviamente bisogna uscire da tutte le forme di alienazione Vavala ne faceva riferimento poco prima che sono determinate dalle forme di dominio ecco c'è questo tipo di relazioni che dobbiamo tenere ben presente che non è per niente economicistico perlomeno in Marx che poi nella storia del marxismo ci sarà stato un economicismo più che abbondante un'altra cosa ma in Marx non mi ci vede nemmeno ne Grundris ne Grundris è per niente però teniamo conto delle osservazioni che si sono fatte su Grundris che non sono altra cosa dal capitale o contro il capitale sono un laboratorio nel quale si pensa il capitale e quindi non sono contrapposti il rapporto tra inedito e edito soprattutto quando questo inedito non è che sia rimasto perché si voleva pubblicare questo inedito non si è voluto pubblicare e si è trasferito nel capitale ecco che il problema della emancipazione dell'individuo è un tema specificamente martiano che va visto nell'ambito dei rapporti di dominio quanto stava dicendo prima e beh sì anche su questo sono d'accordo ma sono molteplici non sono soltanto quelle fatte insomma Marx se ne è interessato dell'espropriazione l'altra volta infatti con Montanari mi sembra sono intervenuto proprio su questo punto insomma a proposito ovviamente delle speculazioni immobiliari insomma che è una forma di espropriazione cioè il fatto è che quelle forme di espropriazione che Marx emette come tipiche dell'accumulazione originaria sono una costante che ovviamente della formazione dell'accumulazione del capitale sono forme di accumulazione del capitale costante in certi momenti storici in cui i rapporti conflittuali sono più equilibrati queste forme di espropriazione diminuiscono nei confronti delle forme di estrazione del plusvalore tradizionale chiamiamolo in altri momenti in cui invece i rapporti di forza sono fortemente squilibrati come in questo momento non le vediamo riemergere con estrema forza e ripeto sono più delle quattro a cui tu facevi riferimento precedentemente io l'ho sintetizzata in una frase questo problema l'accumulazione originaria è per sempre grazie Paolo io non sono un marxologo meglio no direi lo so beh i marxologi fanno molta molta filologia il che naturalmente è un fatto che è bene dalla filologia io vorrei poi che si ricavasse la sostanza c'è una mano alzata Marx non era un accademico Marx faceva anche diciamo ricorreva come hai ricordato tu anche alla matematica ma perché voleva esplorare il mondo per cambiarlo per cambiarlo dalle fondamenti Piero posso? prego Dino vai ciao naturalmente è bella interessante è intensa anche questa relazione introduttiva di Favilli mi è molto piaciuta forse sono rimasti in ombra alcune questioni tantissime di ordine generale di valore generale la capacità di Marx di calare l'analisi teorica nel concreto tessuto storico il capitolo finale del primo libro del capitale sull'accumulazione originaria è un esempio assai significativo di tutto questo e poi la lente di Marx si rivolge alle situazioni storicamente determinate come si presentano la loro concretezza tu Paolo hai citato la relazione con Vera Zasulic io voglio ricordare che Marx esamina proprio in questo rapporto con la Zasulic un elemento particolare diciamo storicamente concreto e determinato della Russia dell'epoca Lovshina che Marx legge come un nucleo possibile di comunismo contadino con sviluppi come dire inimmaginabili da sollecitare naturalmente ecco forse questo intreccio fra teoria e storia doveva essere ancora più illuminato ancora più messo a fuoco oggi possiamo utilizzare gli strumenti marziani come tu li hai delineati rammentati ricostruiti per leggere il presente in parte sì in parte no ora noi abbiamo dato un po' di legnate al povero schiavone io condivido in buona misura l'ho appena comprato e appena sfogliato quindi capisco un po' le obiezioni di fondo che voi rivolgete e come dire la la posizione curiosa che ha schiavone no che riduce fortemente le questioni all'evoluzione incredibile strepitosa della tecnica per cui questo è l'elemento fondante con cui noi dovremmo misurarci presumibilmente non è così perché al di sotto di questo manto che avvolge in una notte in cui tutte le vacche sono nere al di sotto di questo manto della tecnica poi funzionano ancora i rapporti di classe fraccetti del resto quanto si sta discutendo adesso a livello di governo a proposito di fischi e quant'altro ci dice bene qual è il ricorso diciamo del tema classi sociali no per chi la politica si spende per quale classe e per quale altra classe quindi diciamo la direzione in cui Paolo Semmoso mi sembra una direzione utile e istruttiva per tutti noi insomma al recuperato questi elementi inalitici che non mi hanno dimenticato soprattutto di fronte a posizioni appunto come quella di Schiavone Paolo grazie per quello che ci hai offerto hai disegnato una trama che ci ha consentito di riflettere di ragionare grazie grazie Dino chi interviene vuoi rispondere Paolo vuoi aggiungere qualcosa no voglio dire io mi sono interrotto proprio sul problema dell'Obscina come tu avrai capito è di un enorme interesse ma a mio parere non è contraddittorio con quella frase che ho letto del 59 quando Marx parla della possibilità di una rivoluzione lui li chiama barbari semi-asiatici insomma del musico russo non è contraddittoria in che senso nel nel lettere nello scambio epistolare tra Marx e la Zasulic ricorre sempre un'espressione le cose andranno così se le cose andranno così se 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 sempre c'è questo se se cioè non c'è mai una dimensione di lettura determinista che derivi da un aspetto di interpretazione esclusivamente teorica il legame con la storia è fondamentale il legame con la storia è fondamentale del resto probabilmente se non ci fosse stata la prima guerra mondiale non avremmo avuto la rivoluzione russa nei modi in cui è avvenuta se se ecco la necessità di fare ricorso sempre all'analisi specifica dell'oggetto specifico è una ricchezza fondamentale della teoria se mi consentite ancora un'altra battuta a proposito del dialogo va va là Favilli e quindi a proposito degli individui impoveriti che bisogna invece arricchire perché come dire andrebbe questa loro soggettività ricostruita insomma rafforzata per renderla adeguata ai problemi e agli eventi del mondo e alle pressioni che tutto questo esercita io capisco perfettamente però nella posizione di Gigi come dire vedo una sorta di ripiegamento intimistico quasi cioè esiste anche il problema di come gli individui per esempio i nostri allievi si relazionano col mondo ricostruiscono il loro rapporto con la realtà per esempio con la politica e quanto viene emergendo in questa fase storico-politica del nostro paese penso alle manifestazioni antifasciste che si sono succedute e beh qualche cosa ce la dice ce l'insegna c'è una gioventù e quindi degli individui giovani disponibili a partecipare a grandi lotte collettive ecco io penso che questo non deve fuoriuscire dal nostro orizzonte permonestando la necessità insomma di arricchire questi soggetti individui giovani che come dire vengono scogliati di una ricchezza possibile da una scuola che non funziona da una scuola tutta giocata sul suo rapporto col mondo del lavoro che diventa sempre più aziendale tristemente burocratica e così via ecco però diamo la giusta collocazione a questo tema che tu hai toccato e affrontato se non c'è nessuno che vuole intervenire dico qualcosa anch'io sì scusa volevo riprendere un altro se possibile sono Mario buonasera a tutti allora la teoria la teoria marxiana secondo me questo io vado a braccio adesso ma ho letto un po' di cose viene almeno da alcuni falsi adulatori dico io potrebbe essere applicata o viene applicata solo in società che dal fedolesimo si ribellano e vogliono eventualmente evolversi vedi ad esempio la rivoluzione russa quindi non mi rifaccio alla rivoluzione francese perché quella è una rivoluzione borghese io non sono convinto di questo non sono convinto perché la teoria così come teoria economica marxiana marxista è anche oggi attuabile ovviamente ecco su questo forse mi rifarei ad adorno che parla pure della qualità della tecnica che deve essere posta al di sotto del controllo politico delle sinistre ecco vorrei dire se questi riferimento a questi falsi adulatori che io chiamo detrattori in realtà hanno espresso questo modo di diciamo di attuazione della rivoluzione socialista lussa solo per una questione di propaganda per dire sì la rivoluzione può essere attuata dalla rivoluzione socialista in base alla teoria del capitale del marxismo solo perché cercavano di difendere in tal senso dicendo che il mondo occidentale non aveva bisogno di tale teoria perché il capitalismo ovviamente è superiore e non contrapponibile alla teoria del capitale non so se sono stato chiaro però vorrei sentire un pochettino chi professore se può dirmi qualcosa su questo e se sono un po' fuori strada io non ho ben compreso allora esatto cioè ci sono dei falsi detrattori che dicono che la rivoluzione marxista e quindi la rivoluzione può essere attuabile solo se si viene da una società feudale ma non da una società moderna per dire questa è alla base proprio di cui ecco questo è quello che volevo io ritengo di no comunque però vorrei capire pure questo però ha poco a che vedere con il testo marxiano d'altra parte le rivoluzioni e la rivoluzione francese è una rivoluzione vera una delle grandi rivoluzioni vere avvengono anche in luoghi avanzati e del dello sviluppo economico e sociale la Francia del fine del settecento è uno di questi luoghi ma non la società perorussa del diciassette la società russa è un'altra cosa ma è un'altra cosa è un'altra cosa ora la rivoluzione che avviene nelle zone retrate è vero che quel tipo di rivoluzione avviene in una zona retrata ma lo avviene non perché sia questo sia leggibile in una teoria ecco c'è elementi se volete di imprevedibilità della storia poi la rivoluzione d'ottobre mette in modo un meccanismo che parla a tutte le società sottosviluppate ecco perché dopo la rivoluzione russa i processi di decolonizzazione avverranno spesso all'insegna di quel modello ma quel modello non è spiegabile con la teoria di Marx è una combinazione complessissima tra la storia russa e i modi con cui avviene una rivoluzione contadina che io direi per certi aspetti non è nemmeno guidata dal gruppo bolshevico ma è guidata dalle esigenze di quella massa contadina che Marx aveva evocato nel 59 cioè quando si parla di pace la rivoluzione è la pace e la terra ai contadini Marx scusate Lenin attraverso questo si mette se volete alla testa ma si mette alla testa di un esercito che già marcia perché i contadini stavano abbandonando l'esercito occupavano le terre e ammazzavano i signori questa è la realtà e questo non si spiega con nessuna teoria si spiega solo con la storia della realtà russa di quel periodo Paolo volevo solo ricordare sicuramente voi avete chiaro il riferimento che il giovane Gramsci nel 17 nella città futura scrive un articolo che è celebre la rivoluzione contro il capitale la rivoluzione russa e la rivoluzione contro il capitale di Carlo Mars e che si è realizzata in presenza di condizioni del tutto diverse da quelle immaginate da Mars non un pieno sviluppo del capitalismo ma invece una solità retrata ancora agricola fondata sul mondo contadino sulla sua vastità e così via quindi il tema è di grande complessità naturalmente bene c'è qualcuno che vuole intervenire allora dico qualcosa prendendo spunto da diciamo un passaggio dell'interessante dell'interessante intervento che faceva Dino Vitale nella sua prima diciamo riflessione l'attualità di Marx allora intanto dico che non bisogna cadere nell'ingenuità di pretendere da Marx un programma politico per l'oggi no? questo è obvio che cosa dobbiamo cercare in Marx intanto c'è qualcosa che forse è passato diciamo nella coscienza collettiva che è l'insegnamento fondamentale di Marx quello che si può riassumere nell'espressione non è la coscienza che determina l'essere sociale ma è l'essere sociale che determina la coscienza e cioè che l'individuo non è pensabile nelle sue espressioni al di fuori della società e che quindi i rapporti di classe determinano la qualità esistenziale psicologica culturale umana antropologica degli individui e questa è una lezione imperitura di Marx no? nessuna scienza sociale perfino la psicanalisi è comprensibile no? senza 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 Marx poi ci sono delle altre cose secondo me la parte la parte più caduca diciamo di Marx caduca per modo di dire perché non è non si può definire così ma è la parte diciamo che non tiene conto della della natura e della teoria del del valore lavoro che Marx naturalmente riprende dall'economia classica da Smith Riccardo eccetera e che diventa però una teoria rivoluzionaria nel senso che mostra la formazione del plus valore e quindi la radice materiale dello sfruttamento e dell'accumulazione capitalistica no? però questo lascia fuori la natura anche se Marx dice che diciamo la ricchezza è il risultato del lavoro umano e della natura no? il ricambio organico lo stop ex change come dice il ricambio organico tra uomo e natura e poi ci sono sparse diciamo a questo proposito anche nel terzo libro del capitale quelli dedicate alla rendita in cui Marx dice che la terra non può essere diciamo divisa non può essere concepita come proprietà di qualcuno perché è come volere la proprietà degli uomini sugli altri esseri umani ma bisogna considerare la terra come gli uomini come un sufruttuario di questi beni comuni da lasciare inalterata e anzi migliorata alle prossime generazioni è sempre un programma ambientalista di oggi però io a proposito dell'attualità di Marx un'attualità che ci serve non un'attualità come dire metodologica passata nel senso comune io voglio ricordare qui il frammento sulle macchine contenuto nel secondo libro dei Grundris lo ricordate lì c'è una riflessione sul general intellect che è di un'attualità folgorante cioè Marx sostiene che oggi il processo di accumulazione passa attraverso la cultura che noi tutti come collettività produciamo tutti i giorni con i nostri scritti con le nostre mail con i nostri dibatti eccetera che diventano materia di accumulazione capitalistica di arricchimento di chi è in cima alla scala sociale mi sembra mi sembra un'intuizione di una potenza attuale straordinaria e solo gli analfabeti e i dilettanti che diciamo inventano manifesti e teorie alla pace possono diciamo avventurarsi su sentieri che non conoscono con una cultura storica da da rotocalco purtroppo diciamo il paese il paese negli ultimi anni è precipitato ma non perché non esistono gli studi io per esempio noto questa grandissima differenza Paolo tra la ricchezza di studi su Marx di tanti nostri colleghi e quanto poco questo penetri e influenzi invece il dibattito politico corrente questo è un problema centrale avrei voluto in parte affrontarlo ma è una distanza stellata che mi hai dato sei tiranno ma hai dato poco tempo no ma tu hai ragione io ti ho dato un compito in mano perché dovevi parlare di una cosa in mano come il capitale come tu hai ben ricordato quindi hai fatto hai fatto benissimo ti ringrazio se non ci sia se non ci sono altri interventi noi terminiamo qui va bene allora Paolo grazie davvero tante per questa bellissima lezione do appuntamento alle amiche e agli amici al martedì 21 di marzo con la lezione di Vezio De Lucia su la difesa delle città storiche in Italia le città storiche sono i centri storici diciamo ma è riduttivo giustamente definirli centri storici perché sono città storiche e l'Italia è il paese per eccellenza delle città storiche che naturalmente rischiano il saccheggio da parte del processo di accumulazione capitalistica grazie anche a Giancarlo Scotoni per averci assistito ciao ciao